Ciao a tutti! Siamo appena arrivati da Positano alla Grotta dello Smeraldo in Pullman. La fermata dell'autobus è proprio di fianco al cancello d'ingresso. Hi everybody! We've just arrived from Positano to the Emerald Grotto by bus! The bus stop is right next to the entrance gate. Poco dopo il cancello trovi l'ascensore che ti porta al livello della Grotta dello Smeraldo. Shortly after the gate, you'll find the elevator that takes you to the level of the Emerald Grotto. Una volta scelti da ascensore, ci troviamo in un corridoio che ci porta davanti all'ingresso della grotta. Come puoi vedere, un altro ottimo modo per arrivare alla Grotta dello Smeraldo è in barca. As you can see, another great way to get to the Emerald Grotto is by boat. Le barche partono da Amalfi e ti portano proprio davanti all'ingresso della grotta. The boats leave from Amalfi and take you right in front of the entrance to the Grotto. Se invece arrivi come noi da Positano, puoi arrivare alla Grotta dello Smeraldo in Pullman in circa 30 minuti. On the other hand, if you come from Positano, like us, you can get to the Emerald Grotto by bus in about 30 minutes. Puoi arrivare alla Brotta dello Smeraldo in Pullman anche da Amalfi in meno di 15 minuti. Per i tempi di percorrente in pullman devi comunque considerare il traffico presente lungo la costiera amalfitana. However, for the bus travel times, you must consider the Amalfi post traffic. La biglietteria per accedere alla grotta si trova proprio davanti all'ingresso. The ticket office to access the cave is right in front of the entrance. Una volta entrati nella Grotta dello Smeraldo, saliamo su una delle piccole imbarcazioni e lo spettacolo comincia. Once inside the Emerald Grotto, we get on the small boat and the show begins. Ora, codifico noi alcuni momenti che abbiamo trascorso all'interno della grotta. Now, enjoy with us some of the moments we spent inside the Grotto. I will try to tell you a little story about the secret of the night of the Gerardo. And then, if you will never be at the end of the show, you will never be at the end of the show. Once you have a divorce, you will always feel a little bit of a thought. Just in case, just in case, don't forget the Capitan, thank you so much. Thank you so much. Come on. Signori, guardate sulla volta della grotta e dai nomi, è il colore alla grotta dello Smeraldo. Signori, luce naturale, luce del suono. Guardate che bel colore dell'acqua che c'è. Madame, this is a natural light. It is a sun light. There is a solution under the water. The trunnel connects to the sea, 16 metres. I can touch the water, it is like water. It is like water in love. Like water in the middle. No sharks, no alligator, no jellyfish. It's including the prize. 10 metri sabbia e roccia sul fondale, quindi da questo tumore entra sia l'acqua del mare sia la luce del sud, guardate com'è profonda, è limpida e trasparente l'acqua, quindi sono circa 10 metri, massima profondità all'interno dell'acqua. C'è il pesce! Signori, se guardate in alto, questo è invece il punto più alto della grotta, arriviamo ai 22 metri di altezza, signori, dal livello del mare. Signori, madame, la grotta della grotta è circa 22 metri dal livello del mare, 22 metri di altezza. A fine di adesso l'ha fatto madre natura, guardate in alto, come siano belle quelle salattite lì sotto, cioè con un pizzico di fantasia, sembrano le canne di un organo di una chiesa, di una calcadrara. Questa sembra anche una città, sembra un organo di una chiesa, sono incredibile, sono spettacolari. Sono il Duomo di Milano, una Sagrada Famiglia a Barcellona. Da quest'altra parte invece, signori, abbiamo il nostro coccodillo che da poco si svegliamo, il nostro coccodillo che è bello per la roccia calcare, sembra la forma di un coccodillo, la fronte e la fronte di un coccodillo, in un cercolone, sembra un coccodrillo che da poco si svegliamo. Tutta roccia calcare, signori, signori, tutta roccia calcare. Signori, siete qui, abbiamo il coccodrillo, guardate sulla vostra sinistra, ora vedete tutto a buio, se io sei appunto la luce su questo masso grande, sono come per magia diventa il volvo, il viso nuovo. Il big stone in fronte, con i fantasmi, immagini, sembra come un profilo, è come una face, il naso, la fronte. Signori, per noi italiani, Giuseppe Garibaldi, come questo c'è, con George Washington, Abraham Lincoln, per gli americani. Napoli e una buona parte, quando vengono i francesi, Adrian Mood, per me è romeno, quindi cerchiamo di accontentare. Tutti. Se non ci siete mai stati a New York, signori, non ci sono problemi, faccio fare pure un salto a New York, il braccio alzato della statua della libertà a New York. Se non hai mai stato a New York, non so. vedete come è bello per la statua della statua della libertà a New York. Signori, Pisa, New York, due minuti. Vedete come è un scholt, come è un fascino, un po' di francese. Nuovo questa statua della diretta che sono più insinuata. Un piano. Tutta Roccia Carcasio, questa è un Limestone. Vedete come è bello questa statua della statua della nostra nation. Sembra un piacaggio, un villaggio. Sì, da lì l'avevo lasciato a New York e qui mi ritrova ad Alberobello, un'adelizio di limone, si stesse fassino maffitante, il primo è come un lemon cake, è tipico di essere un mastico. Alberobello chiama Torino, signore Mole, Antonelliana, Lissopinaccio, guardate bello quella strada, le guida lissopinaccio, appunto, è perché milioni e milioni di anni fa la grotta era totalmente asciuta. Guardate come è limpida e trasparente, signori, questa è stata lì, sembra come la lisca di un pesce, una murina, vedete, sembra, sembra, sembra come un fossile, una pecorella. diamante e diamantina, una pioggia di smeraldo, svalera, diamante. No, 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 no. Grazie. Grazie.